Hai scusato? Ma abbiamo, ho alcuni, abbiamo molto ragione, ma sono di nuovo, variazione, ambilante di 20-40, hanno una domanda di giustizia. Prefondo, 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 prefondo. Io prego per questo, per i cammini, vi attivano inizia a tutti i giorni. Vi attivano inizio a tutti i giorni, vi attivano inizio, vabbè, 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 vabbè. in